Come generare un blocco personalizzato? Posiziono un blocco di lana, lo distruggo e ottengo un blocco personalizzato che se metto a terra funziona come un blocco di lana ma mi restituisce il blocco personalizzato. Quando metto quello di lana ottengo sempre il blocco personalizzato. I saluti a fine video. Come hai visto nell'anteprima ho in mano della lana bianca. Io questa la posso posizionare dove voglio. Come vedi sono in modalità sopravvivenza e ho soltanto due blocchi di tipo personalizzato. Ovviamente il blocco che vorrai personalizzare dipende dalla tua intenzione. In questo caso io vado a distruggere questo blocco e mi viene restituito un blocco che sembra uguale a quello di lana. In effetti quello è solo che è stato sostituito. Tant'è che quando lo vado a prendere si andrà ad aggiungere all'inventario dei blocchi personalizzati. Infatti adesso sono tre. Ora distruggo questo e diventeranno quattro. Distruggo questo e diventeranno cinque. Andiamo a scoprire i command block insieme. Allora prima cosa dobbiamo creare il nostro blocco personalizzato. In questa casa per esempio noi abbiamo scelto di utilizzare la lana bianca e di sostituirla poi con un blocco personalizzato. Il concetto è di avere questo blocco un incudine, rinominare e prendere e ottenere il tuo blocco. In questo caso blocco, vediamo, così, personalizzato. Ok, me lo prendo e me li prendo. Ok, e questi blocchi che ho appena creato li vado a mettere in quella cassa. La dinamica di funzionamento è basata soltanto su queste catene di command block. Allora, mi metto in aria, apro questa cassa e come vedi all'interno c'è un blocco personalizzato. Ok, questo comando di tipo ripetizione incondizionale sempre attivo semplicemente va a clonare esattamente il blocco che sta sopra di sé, quindi la cassa con il suo contenuto ovviamente e lo copia una posizione in basso. Quindi in continuazione copia questa cassa e la copia in questa posizione. Ok, successivamente blocco di tipo catena incondizionale sempre attivo. Cosa va a fare? Dice, guarda, se c'è qualche oggetto di tipo cassa in queste coordinate che sono, mi sembra, questo blocco, diciamo, inquadrato, forse con il mouse lo riesci a vedere, adesso lo faccio vedere. Se c'è un blocco di raggio 3 che si chiama cassa, me la togli, me lo elimini. Questo perché noi andremo a sostituire questa cassa, la distruggeremo la cassa e rimarrebbe la cassa con il proprio contenuto. Quindi se si trova una cassa in queste volante, ok, insomma, l'oggetto cassa, intendo questo, vedete, l'ho lanciato ed è stato cancellato. Bene, rimuovilo, ok, perché non vogliamo prigionieri. Poi vediamo quest'altra catena. Cosa ci dice? Comando di tipo ripetizione incondizionale sempre attivo. Semplicemente cosa va a fare? Dice, guarda, se c'è un oggetto di tipo lana bianca, noi per esempio abbiamo posizionato la lana bianca, l'abbiamo scavata ed è rimasta in sospensione, ok, pronta per essere raccolta. Ecco, allora, vesti i panni della lana bianca, poi vesti i panni del giocatore più vicino che sta nel raggio di 8 e semplicemente gli applichi un effetto di invisibilità 0, 0. Cosa significa? Che praticamente esegui questo comando ma senza alcun effetto di invisibilità. Ci serve soltanto per capire che in questa situazione ci sono contemporaneamente un oggetto di lana bianca volante, ok, e un giocatore. Allora, se c'è questa condizione, allora, lui se ne accorge il comparatore e scatena quest'altra serie di command block. Questo in particolare di tipo impulso, quindi l'impulso lo riceva dal comparatore precedente, incondizionale necessita di pieta rossa. Cosa va a fare? Posiziona set block un blocco d'aria, ok, esattamente un blocco sopra il command block con modalità distruttiva. Praticamente va a distruggere questa cassa, ok? Questa cassa è la copia di questa, all'interno c'è il blocco personalizzato. Quindi se rileva un blocco di lana volante e un giocatore, viene attivato questo blocco, distrugge la cassa con l'aria e rimangono che cosa? Il blocco personalizzato volante in questa zona, quindi noi ce l'andiamo a prendere nel raggio 5, ci teletrasportiamo quel blocco personalizzato nel raggio di 5, e ne porti soltanto 1, count uguale 1 e lo teletrasporti nell'entità che è volante, sappiamo che esiste, che si chiama lana bianca. Quindi teletrasporti quel blocco esattamente dove si trova il blocco di lana bianca. Ultima cosa, dobbiamo eliminare il blocco di lana bianca e lo facciamo con questo comando, il kill dell'entità di tipo oggetto con il nome lana bianca. Il concetto, vediamo se si accende questo comparatore, ho della lana bianca, la getto, se ne accorge, vedi che la cassa viene distrutta, è rimpiazzata subito dopo da questo comando, e noi otteniamo dei blocchi personalizzati, così se tu vuoi personalizzare dei blocchi in modo tale da che quando si distruggono, per esempio, e qualcuno già me l'ha chiesto e sto pensando di fare un video a riguardo, i famosi laggy block, ecco questo è sicuramente l'approccio che devi seguire. Prima di saluti ti ricordo che fino a venerdì 21 maggio puoi partecipare al contest di costruzione avviato sul nostro server Minecraft, che è Bedrock e anche Java. Agganciati allora al nostro server Discord che trovi in descrizione per partecipare e aggiudicarti i premi in palio. Poi, se non lo hai già fatto, iscriviti e fai iscrivere soprattutto i tuoi amici al server Discord e qui sul canale. Qualcuno ha cominciato anche a caricare le proprie creazioni che, come vedi, condivido con piacere. Detto questo, commenta e metti mi piace al video, ma solo se ti è piaciuto e infine dai un'occhiata a queste playlist che ti suggerisco, mentre saluto Shun Official, Daniele, Sofia, Fabio e Federico da YouTube, Simo98, Mate, Lorenzo e Alexander dal canale Discord, che mi hanno chiesto di essere salutati e lo sto facendo in questo momento. Ciao! Grazie a tutti!